Nella provincia di Caltanissetta sono in crescita le infezioni da Covid-19 negli ultimi sette giorni, riscontri di 389 pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. 126 pazienti di Caltanissetta, 108 di Gela, 42 di San Cataldo, 29 di Discemi, 15 di Sommatino, 15 di Vallelunga-Pratameno, 9 di Serra di Falco, 8 di Mussomeli, 8 di Mazzarino, 6 di Riesi, 6 di Milena, 3 di Deglia, 2 di Campofranco, 2 di Villalba, 1 di Bonpensiere, 1 di Butera, 1 di Marianopoli, 1 di Montedoro, 1 di Resuttano e 1 di Sutera. 22 ricoverati in degenza ordinaria, 7 pazienti di Caltanissetta, 5 di Gela, 4 di San Cataldo, 2 di Serra di Falco, 1 di Niscemi, 1 di Santa Caterina-Villarmosa e 2 provenienti da fuori provincia. 20 dimessi dalla degenza ordinaria, di cui 6 pazienti di Gela, 5 di Caltanissetta, 4 di Niscemi, 2 di San Cataldo, 1 di Deglia, 1 di Mazzarino e 1 proveniente da fuori provincia. 3 i deceduti, pazienti positivi al SARS-CoV-2, 1 di Gela, 1 di San Cataldo e 1 di Mussomeli, 229 i guariti, 81 pazienti di Caltanissetta, 61 di Gela, 25 di Niscemi, 12 di San Cataldo, 10 di Mazzarino, 6 di Vallelunga-Pratameno, 5 di Santa Caterina-Villarmosa, 5 di Mossomeli, 4 di Milena, 3 di Butera, 3 di Campofranco, 3 di Resuttano, 3 di Serra di Falco, 3 di Sommatino, 2 di Villalba, 1 di Delia, 1 di Riesi e 1 di Sutera. Un andamento che rispecchia i dati che già la scorsa settimana a livello regionale hanno registrato un aumento dei contagi del 26% secondo quanto emerso dall'ultimo bollettino settimanale del Dipartimento delle Attività Sanitarie e dell'Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Si tratta quindi di un lieve aumento delle nuove ospedalizzazioni sebbene molti contagi siano stati rilevati su soggetti ricoverati già per altre patologie o altre cause.